Amiche e amici di Teletruria, buonasera, siamo qui per una puntata di Caffè Bollente Terrazza d'Estato, un'edizione estiva che abbiamo pensato con il direttore Luca Caneschi di fare in questa meravigliosa cornice a retina nel Palazzo di Fraternita, una terrazza meravigliosa e siamo qui oggi con Giuseppe Fanfani, stavo per dire ex Indaco ma forse non bastava perché ripercorreremo tutta la sua carriera di questi ultimi anni, quindi buonasera Fanfani. Ho scritto una piccola biografia ma non ha senso in questo momento, ne parleremo durante questa chiacchierata, però le voglio fare subito una domanda a Bruciapelo, lei è stato via ad Arezzo, in realtà è sempre stato anche a Arezzo, però ha vissuto a Roma gli ultimi cinque anni, come ritrova questa città? Io l'amo moltissimo anche perché è una città che mi ha accolto, non essendo io di origine retina e che mi ha dato tante soddisfazioni professionali e politiche. l'ho trovata economicamente depressa, per come io la ricordavo in passato, sia chiaro in quello che dico non voglio attribuire responsabilità ad alcuno perché potrei essere frainteso e questo non lo desidero. L'ho trovata per molti aspetti sfiduciata e soprattutto nel colloquio con i giovani ho notato una carenza profonda di prospettive. Non era così quando ero giovane, non era così quando io ero parlamentare. Poi pian piano il venir meno delle grosse aziende, il venir meno sul strato produttivo e imprenditoriale che ha caratterizzato l'evoluzione post bellica di questa città e che ne ha connotato e favorito la ricchezza, sono venuti meno e questo è il dato peggiore. Lei mi porta subito su un tema a me caro che è quella della prospettiva di cui si parla poco, però che in realtà è un tema che per quelli della mia generazione o quelli più giovani di me è un tema fondamentale perché sì Arezzo è una città meravigliosa, però lei crede che realizzare i sogni, realizzare le proprie ambizioni ancora si possa fare in questa città? Perché mi dite lei? Perché hai l'età dei miei figli e mi conosci da quando eri bambino. Niente, credo di sì. Nessuno deve mai rinunciare né alla speranza per il futuro, sarebbe sciocco, né tantomeno alla voglia di fare e alla voglia di contribuire con la propria opera, far crescere complessivamente se stesso, la propria famiglia, ma soprattutto in una visione più ampia alla collettività nella quale vive. Anzi, incito coloro che vivono ad Arezzo ad avere una grandissima voglia di progettare il futuro, perché limitarsi a dire che li incita ad avere speranza per il futuro potrebbe essere retorico e anche poco saggio, ma incitarli ad aver voglia di progettare il futuro vuol dire istigarli a pensare a una città diversa, una città più moderna, una città proiettata in Europa, una città che abbia la possibilità ancora una volta di dimostrare quanto il genius loci a retino e la imprenditorialità a retino sia attuale. Sì, perché ci sono molte persone che si sono trasferite all'estero, che però hanno una necessità e una voglia di tornare in questa città, che sarebbe magari anche necessario rimettere tutti insieme per riordinare idee e per lanciare qualche progetto. Lei, le continuo a dare del lei, per motivi televisivi però, che cosa avrebbe in mente per rilanciare in qualche modo una progettualità giovanile? Intanto rimaniamo sul tema dei giovani. È molto difficile, sai. È molto difficile perché una persona che ha vissuto il più della vita non può avere la presunzione di immaginare di sostituirsi alla progettualità dei giovani o di dire ai giovani cosa essi vogliono fare. Noi abbiamo un dovere, che è quello di trasmettere ai più giovani di noi. Tu hai l'età dei miei figli, quindi mi riferisco non a quelli della tua generazione, ma a quelli della generazione ancora successiva. Abbiamo il dovere di trasferire loro le conoscenze che noi abbiamo. Non a caso con questo concetto è nata la grandissima cultura rinascimentale, sono nate le prime università in Italia, nel mondo, per la verità. E quando noi avessimo correttamente adempiuto a questo dovere avremmo realizzato non solo quella che è un'aspettativa che i giovani aspettano dagli anziani, ma anche i presupposti perché le loro speranze si possano realizzare. Torniamo un po' agli ultimi anni della sua carriera. Lei nel 2014 ha lasciato la città perché è stato eletto all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Secondo lei quella fu una scelta giusta andare via un anno prima della fine del suo percorso, dei cinque anni del suo percorso politico? Non potevo farne a meno, per quello che era il mio vissuto, la mia professionalità e per quello che ormai ritenevo di aver dato alla città. La città da quel periodo non ha avuto progettualità diverse. Cioè tutto quello che è stato fatto successivamente porta la firma di quei nove anni di amministrazione e di quella progettualità. sia chiaro, anche qui non voglio denegare meriti a chi è venuto dopo di me né creare le condizioni per essere considerato un presuntuoso. Dico che la situazione economica, sociale e la evoluzione culturale che ne è susseguita a quella scelta ha dimostrato che tutto quello che si poteva fare nella situazione data era già stato ampiamente fatto e impostato e questo mi tranquillizzò molto quando feci quella scelta. Se ci fosse stato da fare qualcosa ancora nell'ultimo anno probabilmente avrei detto di no. Tanto era un periodo politico molto diverso, allora era prevedibile che a vincere quelle elezioni che sono susseguite nel 2015 potesse essere il candidato dei centrosinistra. Poi la storia era diversamente e vinse Ghinelli. Secondo lei come sarebbe andata invece se avesse vinto Matteo Bracciari? Quali altri progetti si sarebbero potuti realizzare? Credo che nel primo periodo non sarebbe stato possibile se non dar seguito a quello che era già stato impostato, progettato e soprattutto finanziato. Il problema più grosso per un pubblico amministratore oggi nella situazione data non è immaginare il futuro di una città. Basta guardarsi intorno, uno penserebbe ma con questo ben di Dio potremmo realizzare chissà quali belle cose. Il problema di fondo è trovare le gambe per le proprie idee, cioè trovare i finanziamenti ed oggi nella situazione economica che stiamo vivendo questo è difficilissimo. Per rispondere alla tua domanda nel breve periodo non si sarebbe potuto che dar corso a quello che era già stato impostato. Nel periodo successivo questo appartiene alla fantasia di coloro che sarebbero stati chiamati a governare. Secondo lei un'amministrazione comunale senza la forte spinta dei finanziamenti europei, finanziamenti ministeriali, che futuro ha? Poco. Una volta le opere pubbliche erano finanziate dagli investimenti immobiliari, dalle costruzioni. ricordo il periodo d'oro di Luccherini quando la città scoppiava di gru, che erano da tutte le parti. Il periodo della bolla economica del mattone, la cosiddetta bolla del mattone, che accompagnò lo sviluppo di tutta l'Italia fino a tutto il 2006-2007. Poi d'improvviso questa si sgonfiò. Moltissimi di quelli che nel 2006 erano venuti da me a prospettarmi i progetti faraonici per tutte le aree edificabili della città, l'anno dopo cominciarono a non venire più e moltissimi chiesero la restituzione degli oneri che avevano anticipato per costruire, cioè rinunciarono a costruire. Tant'è che gran parte delle aree per cui si era pensato un'espansione economica, sono rimaste lì. Oggi lei ad Arezzo non mi sembra ci sia una gru alzata, forse se ce n'è una… Quali grandi rinunce ci sono state? Tanto a me sono passate tanti anni, ce lo puoi dire. Quali grandi? Quali grandi rinunce ci sono state? Rinunce di che tipo? Ha detto che ci sono state delle rinunce di imprenditori, immagino, che avrebbero voluto fare delle grandi opere in città. La prima grande opera che è rimasta incompiuta è l'area ex Lebole, per la quale bisogna ringraziare ancora gli imprenditori lucchesi, che ancora ci sono della pervicacia che hanno nel tentare in qualche modo di valorizzare quell'area. Oggi non ci sono più le condizioni per immaginare. Si ricorda il progetto che avevo fatto? Avevamo fatto un progetto, anzi, come si chiamava, non mi ricordo il nome, di questi imprenditori. Avevamo fatto un progetto bellissimo con delle torri che riprendevano le torri che oggi stanno intorno, con tutta una serie di interventi molto qualificanti. Poi la condizione economica, il fatto che non vi fossero più richieste né previsioni di vendita, hanno creato le condizioni perché non si potesse più dar corso a questa opera. Devo dire che se molti anni prima fosse dato, fosse stato dato corso ad idee diverse, probabilmente, probabilmente, quell'area sarebbe stata forse sfruttata meglio. Bene, grazie. Noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo sempre con Giuseppe Fanfani. Grazie. Allora, bentornati per il secondo spazio, sempre con Giuseppe Fanfani. Senta, Fanfani, nei suoi nove anni quali sono gli obiettivi più importanti che pensa di aver raggiunto? Quando mi ripresentai la seconda volta, presentai un libretto con tutte le cose che erano state fatte. Le opere pubbliche che non finivano più. Però non me ne voglio far neanche un merito perché quello era un periodo in cui le opere pubbliche si potevano fare. E uno dei motivi che mi crearono grande soddisfazione fu la possibilità di aver potuto accedere ai fondi Pius che ci consentirono di restaurare, per esempio, tutto il centro storico. Oggi noi abbiamo un centro storico, si parla tanto di turismo, no? Abbiamo un centro storico particolarmente abbellito rispetto a quello che ho trovato. Piazza Grande è stata totalmente rifatta, Piazza Sant'Agostino lo è stata ugualmente, Piazza Guido Monaco lo è stato ugualmente, le logge del Grano lo sono state, Piazza Cadorna è stata rimessa. Senza pensare alle varie rotatorie, alle varie interventi che vi sono stati. Però l'opera che io credo sia stata maggiormente utile ai cittadini sia stato l'accorpamento di tutti gli uffici comunali nello sportello unico che oggi consente a tutti di entrare alla Cadorna, fare le proprie cose e andarsene. Nei limiti in cui il personale consente una velocizzazione di tutte queste opere. Però erano 21 sportelli sparsi per tutta la città che sono stati accorpati tutti lì e lo saranno anche in futuro. La seconda cosa di cui credo la città abbia goduto particolarmente è il parcheggio dell'ospedale, nel quale si può sostare con un euro al giorno e anche tutti coloro che vanno in quel luogo, che non è certo un luogo di divertimento, possono trovare tranquillità a parcheggi, posti. Tra l'altro, se mi permette, fu un'opera che in qualche modo fu avversata all'inizio. Tantissimo. Io ricordo ancora le tantissime polemiche che ci furono a Pescaiola sul fatto che quell'opera avrebbe abbruttito lo skyline della zona, che sarebbe stata un'opera inutile, una cattedrale nel deserto. Quando vado da altre parti, io ho avuto molto spesso l'occasione di andare a Roma in qualche ospedale, trovare un parcheggio è una benedizione di Dio e quando lo trovi paghi una sassata di soldi. Anche Siena, Siena e Firenze, non sono a buon mercato. Per questo dico che aver immaginato quell'opera, averla finanziata e aver trovato le risorse per poter far pagare soltanto un euro al giorno ai cittadini sia stata un'opera di bene, ma soprattutto sia stata un'opera grandemente utile alla città. Lei prima ha detto di aver lasciato comunque delle opere importanti che hanno dato maggiore visibilità alla città, una città più bella. Mi sembra che questa giunta in qualche modo abbia intrapreso un'opera di marketing, di pubblicizzazione della città che ha portato a dei risultati importanti. I numeri sul turismo sono innegabili, creando anche due nuovi veicoli che sono la Fondazione Turismo e la Fondazione Cultura. È una buona idea, è stata una buona idea secondo lei? Vede, ognuno di noi quando ha l'aspirazione, stavo per dire la presunzione perché un po' di voglia di fare e di consapevolezza di poter fare in queste cose ci vuole, anche perché è un gran sacrificio fare il sindaco o fare l'amministratore pubblico. Quando ognuno di noi è investito di questo ruolo deve apportare alla città, alla collettività nella quale vive tutto quello che può fare. Ma non lo deve fare per la presunzione di poter dire io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, eccetera. Ma lo deve fare con l'umiltà di dire io ho fatto quello che potevo fare. E se quello che abbiamo fatto, quello che ho fatto anche con il mio contributo è stato di utilità alla città, ne sono orgoglioso. Se quello che vedo oggi è utile alla città, sono grato a chi l'ha fatto. Bene, quindi riconosce il fatto che Arezzo in qualche modo abbia ripreso una verve turistica? Lo deve fare, capito? Siccome non abbiamo più la possibilità di contare sui grossi gruppi industriali che vengono a investire ad Arezzo, tutto ciò, anche se sia chiaro, il turismo è una minima parte del pillaretino, come ognuno ben sa. Ma tutto ciò che contribuisce a rilanciare anche l'immagine della città, che il turismo contribuisce tantissimo a rilanciare, tutto quello che si può fare è fatto bene. E invece l'altra parte del pillaretino come si stimola? Io non sono un economista, sono un giurista e non ho la presunzione di affrontare il tema sotto questo profilo. Però il commercio ha un grande spazio e soprattutto la produzione, come sempre per una città di Arezzo, ha lo spazio maggiore. E sento, e quindi la produzione secondo lei quali strade dovrebbe prendere? Ovviamente abbiamo vissuto degli anni importanti, degli anni di crisi, degli anni di ripresa, di rinascita. Le grosse concentrazioni produttive non ci sono più. Non voglio far nomi perché sarebbe antipatico nei confronti anche di tutti quegli imprenditori che le hanno costruite, create e che non hanno avuto poi la forza per portarle avanti. Però prendiamone atto. Una volta che si è consapevoli di questo, bisogna favorire in tutti i modi quello che è rimasto e quello che ancora voglia di costruire. Senta Fanfani, lei come prima militanza politica, diciamo, c'è quella nella democrazia cristiana, era un iscritto all'azione... E' andato proprio a vedere tutto. Beh, come ha detto lei, ci conosciamo da molti anni. Comunque è stata una militanza nella democrazia cristiana, poi ovviamente il panorama politico è cambiato e alla fine ha aderito anche al Partito Democratico durante la sua nascita. Anche se lei si può dire che ha sempre fatto parte di una corrente tutta sua, la corrente fanfaniana, la sua. Parli ad Arezzo o parli a livello nazionale? Allora, allora, no, io ho un vissuto politico lungo, potrei dire come Pablo Neruda, confesso di avere vissuto, per la verità. Sì, ho cominciato giovanissimo come consigliere comunale a Sansepolcro, poi consigliere provinciale, sono stato due volte segretario provinciale della democrazia cristiana. Poi, dopo la caduta del muro di Berlino, tutti i partiti storici, i partiti che avevano e tutte le grandi ideologie del Novecento si sfaldarono una dietro l'altra, io per molti anni non sono stato più iscritto a nessun partito. Poi fui rieletto alla Camera con l'Ulivo e poi fui uno dei fondatori del Partito Democratico, pensi che angoscia ho oggi. Certo, lei entrò nel 2001 alla Camera, è stato anche responsabile di giustizia per la Margherita, che ricordo conserva, lei alla fine ci stava bene in Parlamento. Ho dato anche lì il contributo che potevo dare, senza presunzione, sono stato migliore di tanti altri e peggiore di tanti altri, perché uno si confronta a quel livello con persone. Molto spesso quando penso al mio passato talvolta mi mortifico, quando vedo il presente mi esalto. Ho lasciato un po' di silenzio apposta. Senta, gli ultimi anni sono stati anni molto intensi, lei ha fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura e in questo periodo il Consiglio Superiore della Magistratura è sotto una certa bufera, sono immersi dei particolari importanti che necessitano di una valutazione, di una riflessione di tutti. Lei che cosa pensa, che cosa ha vissuto in quegli anni, che cosa c'è che non va? Probabilmente la composizione intera del Consiglio Superiore della Magistratura andrebbe ripensata. Quello che va fatto, gradirei non dirlo, anche perché il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Capo dello Stato che nel corso della settimana passata ha avuto modo di esprimere lui le direttive in ordine all'esigenza di recupero di credibilità complessiva del sistema e quindi credo non opportuno entrare su questo tema. Ma se mi chiedi a titolo personale cosa io penso, ti dico che il sistema correntizio all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura è deleterio, lo era anche in passato e probabilmente queste radicalizzazioni che oggi noi vediamo e questa violenza nel manifestarsi nel confronto tra correnti sono frutto di quelle sedimentazioni che per anni il Consiglio della Magistratura ha avuto. Quindi un sistema di formazione diverso qui le idee sono moltiformi come voi giornalisti ben sapete, un sistema di disciplina molto diverso e la necessità di ripensare a quell'esigenza fondamentale, a quel principio fondamentale di tutela di cittadini e di democrazia che si chiama autonomia e indipendenza della magistratura però in termini più concreti, in termini di efficienza del servizio, di funzionalità del servizio e di credibilità del servizio. Altrimenti cosa si rischia? Beh, quando uno si trova di fronte ad una causa che dura anni, a moltissimi processi che finiscono prescritti, e questo lo sanno gli stessi pubblici ministeri che li lasciano lì, ma poverini, non possono far diversamente finché l'azione penale sarà obbligatoria. A giudizi civili che durano tempi talmente lunghi da scoraggiare, si dice anche la presenza imprenditoriale che venga dall'estero comunque, l'investimento di capitale in Italia, allora uno si deve domandare se il servizio complessivamente non vada rivisto, è come se uno va alla stazione e domanda quando passa il treno per Roma, si sa che dovrebbe partire alle 7.35, però se passa non si sa, e quando arriverà non glielo possiamo garantire, in questa situazione neanche te che sei giovane e ai tante prenderesti il treno. Grazie per l'ai tante, noi ci vediamo per l'ultimo spazio tra fuoco. Amiche e amici di Treturia, bentornati con l'ultimo spazio di questa trasmissione, in cui il protagonista è Giuseppe Fanfani, come sentite le campane e il movimento del meccanismo che le coordina è in corso, ed è bello così, perché siamo su una delle terrazze più belle di Arezzo. Fanfani, lei che lavoro fa ora? Sono tornato a fare l'avvocato, come credo sia noto, mi occupo di letteratura, di poesia, scrivo, ho un nipote in più da ieri l'altro da curare, al di là degli scherzi, mi sono riscritto all'albo e faccio l'avvocato e ho fondato questa associazione che si chiama Equa, con la quale ho messo a disposizione della città tutto il patrimonio di conoscenze e di rapporti che ho costruito in tutti questi anni e credo che questo sia un'altra forma di amore verso una città che mi ha dato tanto. Ma lei continuerà a fare qualcosa per la città a parte l'associazione? Si legge, si parla, si mormora, ma questo è normale che lei in qualche modo sia ancora intenzionato a contribuire alla vita politica di questa città, è corretto? Oppure mi smentirà? La domanda è generica e la risposta è necessaria. Certo, chi ha vissuto sempre di politiche e di amore verso una collettività, come fa a dire che si tira indietro? Se la domanda è più specifica, la risposta sarà ugualmente specifica. E allora? Mi faccio la domanda più specifica. Ha l'intenzione per il 2020 di fare qualcosa, di presentare una lista civica o comunque coordinare un progetto civico? Non ci avevo pensato, sai, a questa domanda. No, allora il... direi... Specifico, ha detto, eh? Specifico. Direi... se ci fossero le condizioni potrei impegnarmi, ma la prima condizione è che avessi vent'anni di meno e quindi credo che la risposta sia ugualmente chiara. vent'anni non si possono togliere. Eh, è difficile. Però si può soprassedere a questa regola. Beh, non credo che... Oggi vi siano le condizioni per risponderti positivamente. Ti dico che tendenzialmente io non sono per ripercorrere strade già percorse, perché sono un curioso, perché credo che vi siano persone molto più brave di me che possono fare questo lavoro. Se mi domandi se da cittadino posso contribuire a far sì che per quello che potrò fare, la città abbia una persona in più che lavori per lei, direi di sì. Senta, come trova il panorama politico attualmente in questa città? Parliamo magari del centrosinistra, il centrodestra lei non lo frequentava, però il centrosinistra non lo conosce. Però il centrosinistra è stato il suo terreno per molti anni. Ora, al di là delle varie valutazioni che si possono fare relative anche ai tempi che viviamo, però in realtà una crisi si avverte. Il centrosinistra ha bisogno di ricostruirsi, di una palingenesi di carattere generale. Quando io fu eletto al Parlamento nel 2001 avevo con me una coalizione amplissima, che era esaltata. Ricorderete tutti quanto fosse combattuta e difficile. Prese quasi 50 mila voti, se non sbaglio. Sì, 49 mila. 49 mila, 700. Fu una campagna elettorale combattutissima fino all'ultimo, senza esclusione di colpi, devo dire. E forse l'ultima vera e forte campagna elettorale che è stata fatta in questa città. D'altra parte aveva un avversario di Valora, Maurizio Bianconi, non è da... da non considerare, perché per quello che l'ho conosciuto io e per il rapporto che ho avuto con lui, l'ho sempre considerato persona di grande qualità, politica. All'epoca il centrosinistra era una realtà viva, forte. E questa stessa realtà è stato possibile rimetterla assieme nel 2006, quando mi presentai alle elezioni politiche. in una situazione non semplice. Il centrodestra non era in una situazione semplice, perché veniva da quell'inchiesta giudiziaria particolarmente antipatica. Ma il risultato intanto lo si poté ottenere, in quanto riuscimmo a tenere insieme tutti coloro che si consideravano facenti parte del centrosinistra, che ha sempre avuto, come è noto, una propensione naturale a dividersi. non so se esiste ancora, dopo le trasformazioni politiche che in parte, anzi, in grande parte ha contribuito a creare il Movimento 5 Stelle e la nascita di questo movimento, le condizioni per poter ancora dividere la politica tra centrodestra e centrosinistra. Credo di no. però per rispondere alla domanda che inizialmente mi hai fatto, se il centrosinistra riterrà di essere ancora un soggetto politico in grado di esprimere una politica di continuità alternativa rispetto a quella che attualmente sta esprimendo il centrodestra in questa città, e non ho usato queste due espressioni a caso, allora credo che il centrosinistra debba cominciare a ripetere a continuità alternativa. Ma li puoi declinare? Certo. Allora il centrosinistra deve prima ritrovare le ragioni di una sua coesione. Continuità è quello che ho detto prima. Ciascuno deve partire quando si pone nell'ottica di amministrare una città con l'idea di continuare le esperienze che sono state fatte, di valorizzare il buono e di non proseguire in ciò che non condivide. Questa è la continuità. L'alternatività si esprime nel dar corsa ad idee nuove che possano sostituire quelle che non si condividono. Qual è un'idea nuova? Bisognerebbe elaborarla in funzione delle necessità che questa città esprime. Una maggiore coesione sociale questo sì. E soprattutto un sistema formativo che riveda complessivamente assieme agli organi nazionali competenti, e parlo prima di tutto del ministro dell'istruzione, un sistema formativo per i giovani che da qui a vent'anni costruisca una classe politica e una classe imprenditoriale in grado di essere parte integrante del progetto europeo e mondiale. Quello che oggi non siamo, tra vent'anni non esisterà più. E questi ragazzi che oggi si formano, se vogliono avere la possibilità di, non dico di essere competitivi, ma di essere parte di un progetto più generale, bisogna che abbiano una formazione totalmente diversa da quella che ho avuto io, che ho avuto te. Intanto bisogna che parlino tutti perfettamente l'inglese. Oggi in tutti i curricula, i curricula che ti chiedono a livello europeo, c'è una domanda che recita così, oltre all'inglese, quale altre lingue conosce e parli? Vi rendete conto che una società che non si pone in questa ottica è una società che ha bisogno di una rivisitazione generale. E quando si parla di formazione dei cittadini, vi è alla base anche un'esigenza di formazione etica che non può non partire dai livelli più bassi dell'istruzione, dall'asilo alle scuole elementari e via via. Sì, però lei prima citava proprio la formazione politica. C'è un deficit importante in questo periodo? Come si colma? Come si riporta le persone giovani a avvicinarsi alla politica in maniera più costruttiva, più forte, per cercare in qualche modo di essere protagonisti veri dei cambiamenti di questo Paese, delle città, delle regioni? Io sono sempre stato convinto che una delle esigenze più forti che una società possa esprimere è quella di convincere i ragazzi fin dalla giovanissima età che la res pubblica, cioè quello che il bene comune non è una variabile indipendente del proprio bene individuale, che non esista realizzazione individuale se non nel quadro più ampio di una società che sia giusta, sia equa, sia ben ordinata. E il compito più grande dei formatori, cioè degli insegnanti, è quello proprio di costruire queste coscienze, di far capire ai giovani che occuparsi di cosa pubblica e occuparsene personalmente, impegnarsi nella cosa pubblica è una delle cose più belle che la provvidenza ci possa dare. Senta, le faccio una domanda, esco un po' fuori tema. Le politiche sull'integrazione secondo lei in questo Paese, anche insomma in virtù dei fatti che viviamo, dei fatti di cronaca, di questo aumento spropositato a volte dei toni, sicuramente pone anche una riflessione su quello che magari è stato sbagliato e che poteva essere fatto in maniera diversa, perché questo poi alla fine è quello che si rivive nelle città italiane, non è semplicemente un problema di Roma, non è semplicemente un problema dei ministeri, non è semplicemente un problema europeo, è un problema che si declina in tutto il territorio. Oggi la radicalizzazione di questo confronto e il fatto che la politica sulla integrazione sia diventata una forma di propaganda permanente è frutto anche della incapacità che l'Europa, non l'Italia, l'Europa e devo dire anche il mondo intero, non lascio fuori neanche l'America in questo momento, dell'incapacità complessiva che questi paesi e queste comunità hanno avuto di considerare il problema per quello che il problema effettivamente è. queste migrazioni bibliche non sono frutto soltanto di una estemporaneità di comportamenti, sono frutto di una universalità della conoscenza indotta da internet, per la quale tutti i popoli del mondo vedono che da una parte si fanno le cure dimagranti perché siamo tutti grassi e dall'altra parte non c'è da mangiare. Quando vedono che determinati ruoli, la valorizzazione per esempio del ruolo della donna nei paesi occidentali è ampiamente radicalizzata e comunque in piena espansione in altri paesi si assiste a dei comportamenti che noi non possiamo che definire incivili. Quando si assiste al fenomeno di migrazioni bibliche dovute al fatto alla sottovalutazione degli effetti climatici sulla desertificazione di tanti territori che per millenni è andato da mangiare in maniera equilibrata eccetera. Quando io sento dire a Bolsonaro che la foresta amazzonica è una risorsa e come tale ha incentivato terribilmente la deforestazione, allora io dico che la mancata consapevolezza della portata universale di questi problemi e la sua sottovalutazione ha dato luogo a quella che oggi è diventata soltanto un sistema di propaganda a fronte del quale nessun paese sarà in grado di dare risposte serie, perché mentre noi teniamo nel mare 40-50 profughi, domani saranno 80, poi saranno altri 20, poi la rotta balcanica trasforma e butta in Europa attraverso anche comportamenti profondamente illeciti una serie infinite di migranti. Insomma ci vuole una coscienza, io non sono mai stato un collettivista, però vi dico che a questo punto su questi problemi ci vuole una consapevolezza universale, una coscienza universale. Vedete, io sono frutto del Novecento, sono figlio del Novecento in cui si sono confrontate ideologie feroci, oggi le vere ideologie nel mondo sono il clima, la sopravvivenza del pianeta, l'acqua e la fame. Se riuscissimo a dare un governo universale e comune a queste idee probabilmente avremmo un mondo migliore. Grazie, grazie Giuseppe Fanfani, grazie a tutti i nostri telespettatori, anche per stasera e tutte, ci vediamo per la prossima puntata, sempre da questa meravigliosa terrazza. Grazie a voi.